questi qua sono per intagliarlo finemente con un coltello per buttarlo poi dentro un frullatore ma come io scusa se la gente voleva vedere si può più di professionale si può la master chef mi giuro riesco a usare il latte ma che si mangia la roba che c'è da ripeto dalle bucche ma per cui la pegiamo poi non ha neanche fatto un bel aspetto sembra un po' la cosa digerita da un bambino ma quando ormai è finita nel pannolino ho capito? come perfumoso sa di roba magica allora adesso sperando che tutto quanto vada bene perché non lo so aggiungiamo l'olio la tipa della ricetta che è cucinati credo che si chiami santa donna sempre se nel mio cuore aggiunge olio di nonciolo l'unica cosa che ho trovato simile è l'olio Grazie a tutti.